ciao a tutti oggi prepareremo il porridge il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa ingredienti sono fiocchi d'avena latte parzialmente scremato e miele e per guarnire frutta fresca tagliata a pezzetti gocce di cioccolato e frutta secca diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte i fiocchi d'avena ed il miele ed azionare il baby per 10 minuti 100 gradi anti orario velocità soft il porridge è pronto trasferire in delle ciotoline decorare con frutta secca frutta fresca e gocce di cioccolato e servire porridge grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti